In brossi ero professore di letteratura, in America pulisco cacca di uccelli, mi manca la mia lingua, vorrei, vorrei tanto poter parlare con qualcuno. A chi lo dici? Cosa? Ho detto a chi lo dici? Lui capisce, è intelligente, parla. Non credo che se avessimo un animale con queste prerogative ce ne saremmo accorti? Scusa. Tu sai parlare? Certo che parlo. Allora perché non parlavi? Perché a parlare ci si mette nei pasticci. Perché dici questa cosa? È una storia lunga. Io sono rosso, adoro le storie lunghe. Tutta la storia cominciò con Maria. Muoio un po'. Stai aiutandomi a imparare le... I pappagalli non insegnano. Non credo che conosca la differenza tra fantasia e realtà. Dovremmo seriamente pensare a dar via quel pappagallo. Marie! 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 Marie, torna da me! Ti voglio bene! Devi camminare un bel po'. La DreamWork Pictures presenta il lunghissimo viaggio... Devo trovare la mia amica Marie. ...di un piccolo pappagallo molto spiritoso. Credo di essermi perso. Tu sai parlare. Anche loro parlano. No, loro non avranno. Se dico taco, loro dicono taco. Taco, taco, taco! Le fragole sono color fragola, le prugne sono color... È troppo difficile. La domanda di riserva? Cos'è questa? Una tavola illustrata, idiota. Che polteggio gli diamo? Prendi questo! Che imparerà che a parlare si finisce in un mare di guai. Fa farti freggere, brutto! Hai insegnato al pappagallo a insultare i clienti. No, lo vedo benissimo da solo, che sei brutto! Qualcuno deve insegnare di buone maniere a questo bellissimo pappagallo. E che l'amicizia mi piace davvero moltissimo. Mi piace davvero moltissimo. Ehi, sventola, ma che fai, pappagallo? Ehi, sventola, ma che fai, pappagallo? Ti offre le ali per volare. Quest'anno scopri l'America attraverso gli occhi di... Poli. Nei migliori cinema.